buonasera ho acquistato l'aspiratore gemi modello base come potete vedere il tiraggio è perfetto o appena c'è il fuoco fumo non esce questa è la console diciamo il regolatore impostato a velocità 3 come potete vedere una volta che il fuoco è acceso si può tranquillamente mettere a posizione 12 comunque ho forato il muro potete vedere e sono uscito verso il giardino ora vi porto a farvelo vedere ecco qua il tubo esce dal buco chiuso detto e sale primo all'aspiratore tenne sola sopra ovviamente ho comprato il modello base perché la canna fumaria è più lunga di 4 metri non so se si riesce a vedere come sta girando però mi garantisco che gira benissimo e aspira benissimo mi gira benissimo funziona benissimo ho risolto il problema del fumo grazie